ciao a tutti oggi nuovo video con una novità allora sono venuta a conoscenza di una app che è questa qui to good to go che trovate nello store dove ci sono vari negozi di prodotti pasticcerie bar ristoranti i supermercati tipo il carrefour vi iscrivete e ci sono delle offerte ogni giorno tipo questo facciamo un esempio allora clicco qua che invece di buttare le i cibi prima di chiudere li mettono in esposizione dei clienti pagando un piccolo prezzo come avete questo 4 99 oppure 3 99 come speso di stasera 2 euro 99 quindi voi cliccate dove volete andare fate potete dire se siete allergici a degli ingredienti prenota poi dirà ok ho capito e ok ho capito e prete pagare con la carta di credito paypal oppure con satis pay eh sì scusate con la post pay potete scegliere la quantità l'orario quello lì è fisso io l'ho provato stasera per la prima volta sono andata in un bar vicino dove lavoro ho pagato 3 euro e 99 e vi faccio vedere cosa mi hanno dato principalmente panini anzi solo panini per me secondo me è una cosa giusta così invece di buttarli ecco qua questi qua in un sacchetto c'è scritto che invece molti locali fanno pagare il sacchetto 50 centesimi invece a me invece me l'ho dato gratis la prossima volta vorrei provare una pasticceria per vedere cosa mi danno e poi magari un mattino la le brioche quindi l'app è to good to go provatela per questo video è tutto mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale ciao ciao